L'esperienza più brutta che facciamo come persone, tutti, qual è? Quando è che ci sentiamo veramente male? Quando ci rendiamo conto che qualcuno, gli altri o qualcuno, ci tratta non gratuitamente, con attenzione, ma ci tratta come un oggetto di interesse e di piacere. Avete visto che c'è il detto, quando un diavolo taccarizza, vol l'anima. Una delle cose più belle di questa testimonianza è il fatto che quando lei si rende conto che gli uomini guardavano le parti del corpo, ma non siamo capaci di guardare al cuore. Noi guardiamo se una persona è bella, se è buona, se è ricca, se è esperta, ma non guardiamo che tutte le persone desiderano una cosa sola, di essere voluti bene. E guardate che l'incontro con Gesù è questo. Cioè non incontra Gesù, per esempio, chi ha un tumore e in un batter d'occhio gli sparisce. Cioè non è la guarigione del corpo l'incontro con Gesù. Gesù in fondo fa i miracoli anche del corpo, delle malattie, guarisce le malattie, per aiutare le persone a credere in Lui, che Lui è il figlio di Dio e che Dio ama ognuno di noi, uno per uno, in tutte le circostanze, in qualsiasi situazione, anche se usiamo male della nostra vita. Ecco la potenza di San Giovanni Battista, ecco che invita, prepara il popolo di Israele ad accogliere Gesù. Ma non è che ci sia riuscito tanto, perché gli ebrei che sono diventati cristiani, su puro poco, carissimi amici, noi ci dobbiamo rendere conto di questo. Noi siamo un paese cristiano, ma sulla carta l'Italia, l'Europa, si abortisce con una facilità incredibile, ci si lascia e ci si prende con una facilità incredibile. Se fossimo davvero dei paesi cristiani, ecco, la famiglia, le scuole, le nostre comunità, sarebbero diverse, non ci sarebbe tutta sta crisi, perché, insomma, accogliere Gesù, anche se è semplice, non è una cosa che possiamo fare noi con il nostro ingegno, ma lo possiamo fare con la nostra semplicità, la nostra povertà di spirito. I poveri di spirito sono beati perché riconoscono la verità, dicono pane, pane, vino al vino.